La storia di Moro, della sua scorta, si inserisce in un periodo storico particolarmente importante della nostra Repubblica e noi riteniamo che sia altrettanto importante ripercorrere alcuni passaggi per capire esattamente che cosa accade in quegli anni e se ciò che accade ha avuto delle risonanze che possono durare ancora oggi. Capire qual è stato lo svolgimento ma soprattutto quali forze hanno operato e come si sono poste le istituzioni democratiche. Questo è stato il primo intendimento. Il secondo intendimento è raccogliere anche l'occasione di questo libro che indaga non sulla grande storia ma indaga sulla piccola storia perché poi la grande storia passa anche attraverso la vita delle persone, delle famiglie che sono direttamente coinvolte. E qui si è trattata della vita di cinque uomini, cinque lavoratori che sono morti sul lavoro di fatto, svolgendo il loro servizio, di cinque famiglie che sono state attraversate dalla storia di questa Repubblica. E quindi noi come associazione di lavoratori ci piaceva partire anche da questo aspetto, da questa tragedia, per provare a ricostruire un pochino la storia. E credo che il libro di Filippo Boni ci abbia aiutato molto, così come le riflessioni del senatore Acquaviva, a collocare entrambi i piani.